Da 30 anni nel mondo della moda, una passione per il cashmere, come nasce Saverio Palatella? Saverio Palatella nasce, diciamo, in funzione a Genova, in Frinsolato, facoltà di lettere, università, mentre stavo preparando un esame, conosco la famiglia che c'è scelmato di gente portofino, mi occupavo di moda e agli albori e veniva poco, nell'81, ho iniziato a disegnare i genitori portofino e l'ho fatto il fido al 1992.